Amici dei fuoricampo e tifosi palermitani, buon pomeriggio, buona domenica. Oggi siamo qui per parlare di Palermo su Tirol, terminata 2 a 1 per i rosa nero. Io prima di tutto però vi invito come al solito a iscrivervi al canale, a mettere mi piace a questo video e a tutti gli altri, a commentare sotto questo video, a dirmi cosa ne pensate della gara fatta oggi dagli uomini di Corini contro il su Tirol e a commentare tutti gli altri, siamo un canale giovane, siamo un canale che dà spazio al calcio che nessuno racconta. Avete tantissima Serie B, il punto con Davide Martini, il post partita del Palermo, del Venezia, della gara di cartello che in questo caso credo sia Parma-Cremonese, ma insomma ogni settimana avete tantissimo calcio di Serie B, poi l'Udinese, Agorà per un riassunto generale sul calcio di Serie A e di Serie B, insomma un canale giovane che va supportato perché dà spazio a tutte quelle realtà che la grande informazione e i stessi canali YouTube non sempre affrontano, ma appunto il calcio di Serie B che ha poi queste piazze fantastiche come Palermo, anche oggi i tifosi della Curva, uno spettacolo bellissimo da vedere. Quindi ragazzi, pollicione, commento, iscrizione e se ci fate il piacere di farlo girare nei vostri conoscenti, ci facciamo conoscere e creiamo questa comunità di persone che seguono la Serie B e anche il calcio delle medio-piccole. Allora, un Palermo su Tirol, una partita che mi è piaciuta, mi è piaciuta, sono stato spesso critico con il gioco espresso da Corini sia in fase offensiva che in fase difensiva, oggi voglio un attimo sottolineare invece un aspetto di questo Palermo che forse non ho fatto nei video precedenti. Però, prima di tutto vi vado a leggere le formazioni, il Palermo che si schiera con un 4-3-3, con Piacelli in porta, Mateju, Lucioni, Ceccaroni e Hansen in difesa, Lund, e poi Vlasic, Stulac e Segre a centrocampo, Di Francesco, Brunori e Mancuso in attacco. Risponde invece in su Tirol con un 4-4-2, con Poluzzi in porta, Cagnano, Masiello, Cuomo e Giorgini, Casiraghi, Bro, ex palermitano, Taita e Cervo a centrocampo, Odogu e Lunetta in attacco. Lunetta, partita bellissima. Allora, secondo me, degli avversari forse il migliore in campo oltre a Cervo che fa un Eurogoal. Gli altri giocatori del Palermo mi sono piaciuti tutti, lo dico da subito, una gara che mi è piaciuta sia dei titolari sia di quelli che poi sono andati ad entrare al loro posto. Quindi, veramente, è un Palermo che mi è piaciuto e mi è piaciuto tanto. Vi vado a dire anche perché. Perché è un Palermo che fa la gara da subito, ma il suo Tirol lo conosciamo, anche se quest'anno ha cambiato un po' il suo modo di giocare. Insomma, Bisoli lo imposta su una gara di ripartenza, lascia il possesso al Palermo. Un Palermo che è in grado, con la formazione che ha in campo, con quel centrocampo, questo secondo me è uno dei più tecnici della Serie A, di creare, di creare. Però lo fa con un gioco, spesso l'abbiamo detto, spesso poco organizzato. Ecco, tantissime giocate, lasciate alla fantasia dei singoli. È un Palermo che ha una qualità assurda negli avanti, di Francesco, Brunori, Mancuso, entra Soleri. Oggi non c'erano né Insigne né Di Mariano. Quindi, insomma, è un Palermo che, quando sarà al completo, avrà veramente delle bocche di cannone lì davanti, da far paura a tutta la Serie B. Centrocampo, secondo me, ha qualità. Anche oggi, praticamente, cambiano tutte e tre durante la gara, perché poi entra Anderson, entra Koulibaly e entra Gomez e nessuno dei tre fa rimpiangere chi è uscito. Questo è un Palermo che, secondo me, se non è la favorita assoluta per la vittoria della Serie B, oggi trova il gol anche con Ceccaroni, una solidità difensiva assurda. Secondo me è la più forte difesa della Serie B con larga differenza. Ceccaroni e Luciani sono un plus per questa categoria. Dicevo, è un Palermo che, se non è la squadra favorita, sicuramente è tra le prime due-tre insieme al Parma e alla Cremonese che si affronteranno tra poco. Allora, è un Palermo che, tutto questo adesso abbiamo detto quanto di positivo fatto, poi però, nonostante il Palermo faccia la gara, nonostante Di Francesco sia praticamente una schezza impazzita che poi però non riesce a quagliare in fatto di gol e assist oggi, alla fine ad andare in vantaggio è il su Tirol con un gol che sembrava un po' la beffa subita con il Cosenza. Cioè, un Palermo che fa la gara, un Palermo attento, palla a Cervo, pochissima pressione sul giocatore del su Tirol, tiro a giro dove Pigliacelli non può arrivare. Il su Tirol si ritrova in vantaggio alla fine del primo tempo, è una squadra, l'abbiamo visto già l'anno scorso, molto rognosa quando va davanti perché è una squadra a cui difficilmente riesce a fare gol, difficilmente riesce a ribaltare la partita, però a me mi ha impressionato, mi hanno impressionato i rosa-nero per la tranquillità con cui dopo un gol si sono rimessi lì a fare il loro gioco che, ripeto, non è un gioco articolato, non è un gioco organizzato, però è un gioco fatto di consapevolezza, di forza, la consapevolezza della propria forza, ragazzi, tanto per mettere insieme le due cose, è una delle caratteristiche che, secondo me e secondo il mio modo di vedere il calcio, è insita nelle grandi squadre. Cioè la capacità di capire che all'interno di una partita ci sono momenti difficili e momenti positivi, cercare i momenti positivi nelle giocate del singolo e avere la tranquillità di portare avanti la gara perché poi si ha una forza tale da poterla ribaltare. Tutto questo poi si è espresso e esplicato nel secondo tempo con i cambi, ripeto che cambia tutte e tre il terzetto di centrocampo e praticamente non si sente la mancanza di nessuno, se devo individuare un punto debole è il terzino di destra del Palermo che può sicuramente migliorare in tutti gli altri ruoli, io mi sento veramente questo Palermo è una squadra completa, cambia il terzino di sinistra e chi entra fa il gol decisivo. Ripeto, il centrocampo cambia completamente, oggi mancavano Insigne e Di Mariano ma comunque la possibilità di mettere Soleri, Bruno Ori, Di Francesco, questa è una squadra che ha veramente una qualità eccezionale, il secondo tempo torna in campo convinta di poterla vincere, al primo a fondo Mancuso, trova il cross basso per l'imbucata di Ceccaroni che batte il portiere del Sud Tirol, Poluzzi. Poi tra il gol di Ceccaroni e il gol d'Aurelio c'è tutto il secondo tempo dove praticamente il Sud Tirol fa mezzo tiro in porta, il Palermo ha un completo dominio del campo, trova anche delle giocate di fattura importante come il tiro di Di Francesco da fuori, cercano l'imbucata per Brunori, c'è il centrocampisti, tutti i centrocampisti del Palermo sono molto pericolosi quando arrivano al limite dell'area di rigore e oggi paradossalmente se non è una partita dove al netto di tutto, negli episodi, se io vado a vedere gli episodi, ti dice paradossalmente male perché il Sud Tirol all'unico tiro in porta trova l'Eurogoal e tu vai sotto. Tu nei tuoi tiri da fuori, nelle giocate, nei tiri a giro trovi o la risposta del portiere o la respinta della difesa avversaria, cioè trovi sempre qualcosa che ti si mette contro, ma questa è una squadra che fa 24 di rinporta, 6 nello specchio della porta, ne subisce solo 2, è una squadra che fa il 60% di possesso palla, batte, 13 calci d'angolo, cioè questa è una squadra che nei numeri va a sottolineare il predominio tecnico e nel campo visto secondo me dal sottoscritto che ha visto la partita e poi il gol avviene all'ultimo come le grandi squadre sanno fare nei minuti finali c'è questo cross, l'imbucata del terzino, in questo caso Aurelio, che a pesce fa un palo traversa bassa e gol e porta i tre punti a casa, tre punti fondamentali perché ripeto giocavi contro una squadra rognosissima, una squadra che quando va in vantaggio già l'anno scorso ha dimostrato di saper gestire i momenti della gara, di non andare in difficoltà anche con le grandi invece questo Palermo, ripeto, oggi io voglio sottolineare la tranquillità e il carattere di squadra forte che mi viene fuori da questi 90 minuti, cioè io oggi percepisco che il Palermo è una squadra consapevole della propria forza, consapevole delle proprie capacità, consapevole che con tranquillità e senza spasmi questa partita l'avrebbe portata a casa. Questo è il mio modo di vedere Palermo su Tirol, ripeto, purtroppo ho questa convinzione che non sempre le grandi squadre per dimostrare di esserlo debbano vincere con larghezza sul risultato, a volte basta anche un gol al novantesimo, ma ripeto, quello che oggi veramente mi viene da sottolineare è la tranquillità e il carattere con cui i rosa-nero pur andando sotto contro una squadra, ripeto, comunque con uno storico importante da questo punto di vista, sono stati in grado di ribaltarla. 16 punti, una gara in meno rispetto alle dirette avversarie, adesso in contemporanea sta iniziando Parma-Cremonese, questo è un Palermo che deve puntare alla A perché ha le qualità e ripeto, io sono stato tanto, 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 tanto critico nel gioco, sia offensivo che difensivo espresso da Corini, ma mi ero nei video precedenti poche volte sottolineato sul carattere che invece la squadra ha messo e devo dire che nelle partite che ho visto effettivamente mi è sempre sembrato un Palermo capace di affrontare il momento di difficoltà e di uscirne da grande squadra. Poi può migliorare a livello offensivo, può migliorare nei meccanismi difensivi perché secondo me la difesa si regge sulle individualità di Ceccaroni, anche oggi Cecca vuole è tornato il Ceccaroni dei tempi di Venezia dove ottiene la promozione da protagonista, questo è un giocatore che quando gioca così ci sono pochi difensori di questo livello in Serie B, Lucioni, vabbè, lo conosciamo, è praticamente maestro nelle promozioni, i terzini di sinistra mi sono piaciuti entrambi, manca, ripeto, qualcosa sulla corsia di destra perché Matejo anche oggi difende dando sempre la possibilità del tiragiro, ormai è diventata una prassi comune tentare questa giocata e quando poi riesce vengono fuori gol come quello di Ganotto o come quello di oggi di Cervo che poi magari possono darti problemi durante la partita. Bravo Palermo, ci vediamo al prossimo video, ditemi invece voi nei commenti cosa ne pensate, ragazzi, mi raccomando, condivisione e like al video. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video.